Una volta vinto il Sekai Tai Kai, faranno tutti la fila per diventare un'aquila. Cambieremo location, avremo centinaia di ghi, una sala allenamenti, una per bagni di ghiaccio. Non ti sembra un po' eccessivo? Sì, ma serve sangue freddo per affrontare il karate. E il signor Larusso che ne pensa? Dovete fare 50 e 50, no? Se il signor Larusso vuole aprire altri dojo, per me va bene. Tanto prima o poi la gente dovrà scegliere se imparare il karate da un venditore di macchine o da un vero sensei. Mi sa che hai sbagliato. Il Miyagi-Do è da quella parte. Devo assicurarmi che non vi ammordidiate troppo. Saremo anche un dojo misto, ma siamo pur sempre aquile. Quindi prima di andare a meditare dal caro Miyagi, romperemo qualche mattone al magazzino. Dommene un altro. Sì, ne serviranno tanti.